Bene, grazie cari amiche e cari amici per essere qui. Per me è stato un grande piacere poter lavorare alla prefazione di questo volume. Io ho scritto la prefazione prima di vedere i saggi, cioè come una riflessione sul tempo. Ha due voci perché l'ho scritta in una sorta di dialogo con il professor Antonio Sparzani che aveva qualche anno prima dato alle stampe un delizioso libretto intitolato Relatività quante storie, che faceva vedere come la relatività fosse curiosamente anticipata dalle persone più strane. Per esempio da Carducci, davanti a Sanguido, perché a seconda di come si piazza il sistema di riferimento Carducci è fermo e vede balzare verso di lui i cipressetti ma i cipressetti sono fermi in un altro sistema di riferimento e dicono perché non ristai, perché ce ne vai via. Questo è un bel esempio di relatività galileiana, non einsteniana ma ce ne sono molti nell'intuizione corrente del tempo, dentro la letteratura e può sembrare curioso persino dentro le arti figurative, nella pittura oppure nella stessa scultura che sembrerebbero le cose più lontane dal tempo perché fermano l'attimo in un qualche modo. Ecco, questo era un punto di partenza naturalmente per questa chiacchierata mia di Antonello sul tempo una chiacchierata che muoveva un po' da quel paradosso che veniva già evocato qui in realtà, lo dice bene uno dei saggi, proprio quello dedicato al cinema già Aristotele aveva una concezione piuttosto relativistica del tempo perché il tempo è sempre ricondotto a un movimento che poi viene valutato secondo il prima e il poi l'idea del tempo invece è come un grande contenitore indifferente a quello che succede dentro di lui un po' come lo spazio questo grande contenitore che non è altro che il corpo di Dio che racchiude tutto quanto e che fa sì che le cose si muovono ma Dio di per sé stesso non ostacola il movimento è come se nulla fosse al suo posto straordinaria affermazione di nichilismo antelitteram tra l'altro questa di Newton questa idea del contenitore è l'idea che si è imposta con la rivoluzione scientifica con Galileo, con Keplero ma soprattutto con Isaac Newton ed è stata la concezione del tempo che ha dominato fino all'Ottocento quando una strana scienza la termodinamica ha cominciato a mettere alcune incrinature in questo quadro poi in un contesto abbastanza diverso è venuto un signore che si chiamava Albert Einstein che ha cominciato a rovesciare tutto questo discorso come un guanto con la sua relatività speciale del 1905 adesso ricorre il centenario della relatività generale nel 1915 cent'anni fa e anche lì il colpo al tempo assoluto è stato dato in una maniera forse ancora più drammatica che nella stessa relatività speciale non è il caso naturalmente di raccontare qui nei dettagli questo tipo di storia che è una delle vicende più belle della fisica ma io ritengo che non sia soltanto una cosa interessante per chi si occupa di fisica e vede i grandi cambiamenti nelle categorie fondamentali di questa disciplina è un modo il tempo fisico per avvicinarsi anche al tempo della civiltà al tempo della memoria al tempo della storia e cercherò adesso in poco tempo scusate la deplorevole gioco di parole di dare una piccola idea di questo noi tutti siamo abituati a dire una cosa abbastanza abituale come lo scorrere del tempo il tempo è come un fiume che ci trascina da Eraclito fino a molti scrittori contemporanei alcuni dei quali sono presenti in queste pagine Joyce inizia si fa per dire inizia Finegan's Walk con la battuta River Run il cuore del fiume il fluire del fiume ma che cos'è che mai fluisce nel tempo? perché lo diceva bene prima Achille noi vediamo un fiume che scorre non vediamo il tempo che scorre non possiamo che segnare il tempo attraverso oggetti fisici riportare il tempo alla nostra corporeità c'è una frase bellissima di un filosofo che è tutt'altro che un materialista il napoletano Giovanni Battista Vico il quale ad un certo punto ci dice noi siamo corpo e poi aggiunge e il tempo esiste in forza del corpo nasce dal corpo io ho trovato per esempio bellissima l'idea di mettere in copertina di questo volume questa sequenza dove il corpo dà il tempo e questo è molto importante se il corpo dà il tempo e il movimento del corpo dà il tempo siamo costretti ad andare oltre l'idea del contenitore newtoniano il grande orologio che regge il mondo il direttore d'orchestra che regola tutti i movimenti da quelli delle più piccole molecole fino a quelli dei pianeti delle comete delle stelle con un'unica bacchetta non è così e non è così per come dicevo prima per due profonde ragioni legate alla fisica una è la scoperta che si può costruire e si deve costruire una fisica che tiene conto del fatto che Aristotele aveva ben capito nei suoi testi quando diceva che a causa del tempo nessuno diviene giovane e bello nessuno impara se mai dimentica passo bellissimo di Aristotele che ci mostra che questa cosa invisibile che scorre ammesso che sia una cosa attenzione ammesso che sia una cosa come dire si comporta in una maniera molto strana perché quando io prendo un metro posso metterlo in una posizione metterlo in un'altra traslarlo in tutte le direzioni e la misurazione va avanti quando invece uso un orologio cose sono molto diverse se non posso tornare indietro e andare a vedere se ho fatto bene la misurazione posso solo accordarmi con altri osservatori che hanno degli altri orologi peccato però che questo accordo sia fuori squadra per fare la battuta di Shakespeare perché fuori squadra perché l'accordo dipende in maniera strutturale dalle velocità relative degli osservatori e questa è la grande novità di Einstein quella che Einstein chiamava a scarsare riassunse una volta ai suoi amici matematici e filosofi di Berna passando sotto il grande orologio che divide le due parti della città se andate a Berna lo vedete ancora Einstein passa lì sotto guarda l'orologio e dice finito non c'è più non c'è più questo tipo di tempo ogni sistema ha il suo tempo e questo è una questa è una conseguenza del modo con cui noi correliamo i vari sistemi di riferimento che descrivono il movimento quindi da una piega della fisica nasce quell'abbandono dell'assolutezza del tempo e ovviamente anche dello spazio di cui Cortellessa parlava prima se poi si tiene presente però che oltretutto il tempo scorre in una direzione non va all'indietro questo è un altro elemento che ci deve far riflettere perché in molti sistemi anzi nella maggior parte dei sistemi con cui noi abbiamo che fare nella vita quotidiana appunto questa irreversibilità del tempo è un elemento fenomenologico quasi ovvio noi vediamo il gatto che mangia il topo non vediamo i pezzi di topo che si ricompongono fuori dalla bocca del gatto e danno origine al topone noi vediamo una zolletta di zucchero che si scioglie nel nostro tè caldo ma non vediamo il processo inverso non vediamo una tazzina che si ricompone dei suoi frammenti quando è caduta per terra vediamo che la tazzina cade si rompe non che i frammenti si mettono insieme ricostruiscono la tazzina quindi il mondo in cui noi viviamo è un mondo irreversibile è un mondo in cui i processi hanno una direzione sola mentre la fisica tradizionale quella classica ci dava la possibilità di invertire t in meno t cioè di scambiare il seno del tempo e ottenere ancora dei processi fisicamente plausibili fino a questa strana scienza termodinamica che nasce dall'esperienza concreta di ingegneri che lavorano nella nostra civilizzazione che sfruttano le differenti forme di energia che hanno stabilito l'equivalenza di una forma di energia con un'altra ma però hanno fatto notare pure che ci sono delle energie in cui lo scambio non avviene in modo perfetto un po' come non so se voi vi ricordate quando si andava nei paesi dell'est e che formalmente voi potevate cambiare in rubli i dollari però guarda caso quando uscivate una parte dei rubli non vi veniva ricambiata in dollari rimanevano rubli ecco e quindi non tutte le monete sono uguali non tutte le forme di energia sono uguali questo si chiama come una parola difficile decadimento dell'energia e la misura del decadimento dell'energia si definisce entropia ma senza andare in tecnicismi di questo tipo noi siamo come dire questa è una cosa che attanagliava d'angoscia persino un poeta come Carducci nella poesia Montemario che era preso d'angoscia l'idea che tutto questo bel mondo ordinato decadesse in un grande miscuglio energetico universale fine dei tramonti fine delle albe fine dei belli alberi fine anche delle belle ragazze sul quale il poeta allungava spesso le mani insomma ecco in questo in questo contesto appunto siamo forse dannati a un lungo periodo che porterà l'universo alla morte termica all'equilibrio universale l'equilibrio universale è la morte è la fine non c'è più cambiamento non c'è più tempo sotto questo profilo si può venire anche un po' fuori da questo tipo di strettoia si può venire da questo tipo di strettoia in molti modi per esempio ricordando che gli esseri umani più in generale gli esseri viventi animali e piante ma anche le civiltà sono qualcosa che non vanno verso il disordine vanno in direzione opposta creano ordine anche se naturalmente questa creazione di ordine è a spese di qualche pezzo dell'ambiente circostante l'idea è stata meravigliosamente esposta da un grandissimo fisico a Dublino sul finire della seconda guerra mondiale si chiamava Schrodinger e questo testo è una conferenza tenuta all'istituto De Valera che è nota colpito che cos'è la vita quindi la nostra vita è qualcosa che va contro la decadenza temporale ma tutto questo costa e i costi sono appunto i costi della materia i costi dell'energia i costi dell'informazione la nostra civiltà è una dissipazione sotto sotto questo punto di vista eppure questa dissipazione è quello forse che più amiamo quello che ci fa pensare che la nostra vita sia degna di essere vissuta che la vita delle società sia degna di essere vissuta i fisici oggi stanno facendo delle interessanti osservazioni sul legame tra entropia e da una parte gravitazione se queste teorie che sono allo stadio piuttosto informale venissero sviluppate in modo soddisfacente forse ne sapremmo di più su quell'enigma che turbava ai suoi tempi Newton quando gli cadde la famosa mela sulla testa perché le mele cadono sul cranio dei fisici e anche dei non fisici e la luna sembra cadere e invece orbita in modo relativamente regolare intorno alla nostra terra questa grande domanda che Newton ha dato la sua risposta Einstein ha dato la sua oggi se troveremo una connessione tra entropia e gravitazione sarà una domanda ancora più ricca e interessante ci fa capire qual è la grande sfida dei volti del tempo che voi avete avuto la bontà di citare la grande sfida è come spesso capita espressa in una maniera meravigliosa non da uno scienziato bensì da un grande artista ogni vicenda umana non è nient'altro che un'equazione insoddisfacente tra un esodo e un ritorno nel tempo attraverso lo spazio reversibile è un esodo è un ritorno nello spazio attraverso un tempo irreversibile il passo da il penultimo capitolo di Ulysses di Joyce ma voglio dire ci sono stati film meravigliosi che hanno giocato su tutto questo penso per esempio alla sequenza finale anche di finale per modo di dire di Odissea nello spazio guarda caso Odissea nello spazio di Kubrick ecco allora questa equazione insoddisfacente tra spazio e tempo tra la reversibilità del nostro movimento spaziale e l'irreversibilità dell'esperienza temporale ecco questo è ancora adesso l'elemento più interessante credo del legame tra fisica e civiltà nonostante le scale di tempi che sono molto diverse ma molto significative se ritornassimo al tempo ciclico della vecchia fisica statistica quella di Boltzmann per cui tutto è già nell'equilibrio termodinamico e soltanto localmente ci sono piccole fluttuazioni in cui il tempo si permette il lusso di scorrere se tornassimo a questa immagine totale la storia umana e l'uomo stesso sarebbero totalmente irrilevanti è il sogno o l'incubo dell'irrilevanza che ha Federico Nietzsche lo citava prima Achille quando vicino una pianta e ne ingadina sento una vocetta che gli dice e tutto si ripeterà nel corso del tempo in realtà non abbiamo tempi che scorrono non abbiamo solo cicli che si riproducono se questa visione fosse vera ed era una visione che Nietzsche ha suggerita da alcune teorie scientifiche più sofisticate della sua epoca la nostra storia sarebbe effettivamente irrilevante la rilevanza della storia è legata proprio a quegli aspetti non direi più del tempo ma dei tempi che si sono inclinati che si sono distorti che si sono dilatati che fanno sì che in presenza di una massa il tempo scorre più lentamente che senza quella massa stessa questo tipo di questioni che non sono questioni puramente di teorici perché su questo sono fondati persino i meccanismi dei GPS che tanto ci sono utili nella vita quotidiana ecco se invece non c'è più questo tempo uniforme siamo in un qualche modo liberati dal destino del tempo e sostituiamo a questo il tempo di ciascuno i tempi che sono così difficili da mettere insieme ma però si riesce a farlo con gli strumenti della fisica e i tempi che si riflettono poi dentro le nostre coscienze io non vedo l'ora di vedere il volume il volume finale della encelopedia di Achille ecco se questo si verifica forse possiamo avere una concezione della nostra civiltà che non pretende più di essere di avere il suo senso nell'essere il centro dell'universo ma che riconosce nel suo essere dentro l'universo appunto un esperimento che è stato comunque interessante compiere anche e soprattutto se questo esperimento non si riprodurrà in modo ciclo ma resterà unico e fragile come noi lo abbiamo conosciuto non posso che terminare come ho citato Vico all'inizio non posso che terminare con una battuta di un altro dei miei filosofi preferiti napoletano esso pure tal Giordano Bruno Nodanola che diceva che il tempo dà e tutto toglie ma lungi dallo spaventarmi questo tipo di filosofia mi magnifica l'animo e mi ingrandisce l'intelletto dopo di che si rivolge alla la sua suppongo amante del momento e gli dice cara signora tenetene conto godete e state sana grazie grazie a Giulio Giorello sono contento che a proposito del fine del tempo come contenitore abbia fatto riferimento all'immagine di copertina di Moivie Bridge dell'87 1887 della donna che scende le scale muovendosi tutto intorno ecco allora questo mi rimanda anche l'immagine del primo volume dell'encecropedia in cui c'era quel frame di Godard che poi portava impresso per cui è come se ci fosse una sorta di ricongiunzione complessiva del tutto e ricordo anche che Varis Gouloise il grande matematico francese è suicidato sì giovanissimo diceva ecco questo mi sembra che sia tutto in sintonia con il nostro incontro chiederei ad alcuni autori qua presenti in sala per esempio a Umberto Silva che ha curato in questo terzo volume la voce dedicata a Stefano Chiodi rispettivamente Umberto Silva la sezione dedicata al cinema e Stefano Chiodi la sezione regata alla fotografia in realtà mentre loro arrivano qui mi è venuta da pensare soltanto Giolello che questa enciclopedia è un atto di resistenza tutto qua